guardate intorno il più bel museo del mondo è l'italia una penisola d'arte sotto il cielo da ammirare e scoprire con museo italia museo italia 150 fascicoli il primo è già in edicola 2000 lire con il regalo il secondo la copertina e il primo degli itinerari artistici regionali museo italia armando curcio editore